Ero le 11 e mezzo quando è saltato l'allarme, manco un orario tardi come di solito, però proprio per questo c'era questo passante che ha chiamato la polizia e sono intervenuti. Ha tentato di introdursi all'interno di questo bar in pieno centro, ci troviamo infatti a pochissimi passi dalla stazione di Arezzo ma è stato scoperto ed arrestato grazie alla preziosa segnalazione di un passante. E' successo nella notte tra sabato e domenica, in manette è finito un cittadino rumeno di 41 anni con una lunga scia di precedenti alle spalle. L'allarme dello storico locale Aretino è scattato attorno alle 23.30 quando il malvivente è riuscito a forzare, probabilmente con delle tronchesi, la vetrata sul lato della veranda, forse pensando di eludere il sistema di allarme e dare meno nell'occhio, ma qualcuno ha comunque notato i suoi movimenti sospetti e ha chiamato la polizia. Al bar sono così arrivati gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo con il supporto del personale della Polfer che hanno colto in flagranza l'uomo. Il malvivente stava infatti cercando di introdursi dalla veranda all'interno del locale nel tentativo di svaliggiare il bar. Veramente devo fare gli elogi alle forze dell'ordine perché hanno veramente tempestivi e l'hanno arrestato proprio un flagrante. Non è la prima volta che il locale finisce nelle mire dei ladri, solamente alcuni mesi fa un altro furto, in quel caso il malvivente, era riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine portandosi via la cassa con dentro poche decine di euro. Per si dimira no, però insomma è sempre peggio, dura perché poi quando succedono queste cose ti danno fastidio, anche per riniziare, riprendersi, insomma non è facile.